La cecchigoli ed associati presenta al San Paolo di Napoli per la regia di De Firelli ed il commento fuoricampo di Lazzaroni un lungo vetraggio di 90 minuti con thrilling iniziale. Vediamo come lo titulerebbe il tecnico Viola. La fortuna è che sicuramente la Fiorentina ha giocato un calcio per vincere questa gara e andiamo a Fiorentina senza punti nessuno. In effetti è andata più vicino al gol del pareggio alla Fiorentina anziché al raddoppio in Napoli, una squadra in cui si avverte pesantemente l'assenza di carecca. L'unico capace di impensierire le difese avversarie con Maradona è di fare anche gol. La fortuna anche perché è l'asso brasiliano si è sostituito oggi uno che parla napoletano e che al gol solitamente non è deputato. Ecco, non a caso, Ferrara e Landucci ce li abbiamo tutti i due vicini, allora il portiere che subisce il gol dopo 50 secondi è l'uomo che doveva marcare stretto un pericoloso attaccante che va a segno e regala una vittoria. Un gol pesante Ferrara. Sì, forse il primo nella mia carriera di gol è abbastanza pesante. Diciamo che per noi oggi era importantissimo vincere pur magari non discutendo una partita bellissima e purtroppo lo sapevamo di questo, era troppo importante la vittoria. È sfugato Landucci così, da dietro, come è andato insomma? È stato questo cross dopo 50 secondi, è un cross molto teso e Ferrara è entrato benissimo e ci siamo anche scontenti per questo anche, mi ha regalato anche un dente dopo questa amarezza perché, niente, siamo stati un po' sfortunati dopo perché forse meritiamo qualcosa di più. Un dente e due punti in meno, beh non vorremmo proprio che succedesse ogni domenica. Forse al Napoli è mancato oltre che careca, l'Alemao di altre volte nella sua sfera però agiva oggi anche Venturini. Contro questo Napoli non proprio lucido negli schemi e nelle giocate si è opposto una Fiorentina veloce la rimessa e che nei primi secondi della ripresa ha persino colpito con la catusche il palo. Lunga è stato il riferimento al centrocampo, fu zero il pericoloso cursore, Nappi il veloce contropiedista. E non si capisce per questo la sostituzione con Ammonito peraltro dopo 18 secondi dall'entrata in campo. Diciamo che Lazzaroni non ha tutti i torti a parlare di fortuna, Bigon lo sa ma pensa alla clacassia che finalmente è diversa da ieri. Una settimana terribile, Milan, Spartac e Fiorentina, quattro punti, tiriamo il bilancio. Buono, soddisfacente, a dirà di quello che è stato il pari con lo Spartac e che forse ci esce un po' di amaro in bocca perché siamo convinti che avremmo meritato qualcosa di più. La partita di oggi, questa Fiorentina che si è mossa molto, ma si è mosso anche tanto il Napoli o meno di quanto le volesse? No, assolutamente, il Napoli ha cercato di dirne forse, mi pare che abbia fatto con sufficiente attenzione. Una Fiorentina molto accorta e direi anche molto pungente in contropiede con un lagatus in ottime condizioni. Sono soddisfatto generalmente del comportamento della squadra proprio in considerazione delle energie spese durante la settimana. Se ci fosse da ricalciarlo, andrei tranquillamente anche perché non è che io vado di forza. Quando chiedono chi se la sente, facciamo fatica arrivare 5, quindi sicuramente ci andrei di nuovo. Purtroppo c'è questa grande amarezza perché è la prima volta che mi capita di fare un rigore ed ho sbagliato io perché ho cambiato, sono andato con l'intenzione e ho cambiato idea. Infatti sono state regolarmente punite, però purtroppo questo è il calcio. Incociati, la qualificazione è su un palo. Sì, purtroppo da parte i rigori che sono sempre interno all'otto.